Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci domani. Questa è la forza del nostro Paese. Un'ultima cosa, tutti insieme ce la faremo. Portaseccia. Questa è diffamazione. Voi non dovete approfittare il fatto... Facciamo le persone civili, per favore. Mi permetto di invitare il governo a emettere ordinanze perentorie. Lancia fiamme. Se si chiude, si chiude. Bisogna chiudere. Tutto quello che non è indispensabile. In questo caso i morti li conteremo.